Italia eccezionale in difesa, ha raccolto veramente tutto, è il momento più difficile, ha conquistato una vittoria forse più bella del Mondiale finora. Sì, diversa dai, secondo me la partita contro Turchia e Cina sono state altrettanto belle da vincere e sicuramente questa stasera siamo partite un po' in difficoltà e siamo uscite alla grande da un momento difficile e questo ci fa ben sperare per il proseguo, per una grande dimostrazione di carattere di questa squadra. Sul 17-12 del secondo set ci credevate ancora? Sì, perché secondo me non avevamo ancora espresso il nostro gioco, avevamo ancora tantissimo da poter dare alla partita e abbiamo solo detto ragazzi pensiamo una palla alla volta come se fosse magari l'ultima palla e quindi abbiamo iniziato a lottare su ogni pallone e abbiamo portato a casa la vittoria. Il momento più bello, più esaltante di questa giornata? Oddio, più bello esaltante, non so ci sono stati tanti bei scambi, magari la difesa senza muro che ha fatto Anna Danesi alla numero 18 è stata veramente brava. Domani con gli Stati Uniti si finisce questo girone in maniera triunfale? Sì, sicuramente domani vedremo una delle altre squadre favorite di questo girone e penseremo a crescere solo il nostro gioco e poi andremo alla Final Six e vedremo lì.